salve ragazzuoli oggi rispondo alla video sfida lanciato dal comodorista il gioco in questione tumble pop un gioco arcade del 1991 sviluppato da data east e distribuito da namco in giappone è un platform a schermata fissa sulla falsa riga dei classici del genere come bubble bubble oppure oppure snow bros è un gioco che io non ho mai frequentato più di tanto ma sembra abbastanza carino la base anche alla presentazione che ha fatto il comodorista la storia del gioco alla sequenza ne siamo due acchiappa fantasmi che girano il mondo acchiappando fantasmi in realtà non ha capito acchiappiamo solo fantasmi perché i nemici sono un po variegati stanno pagliacci robot c'è un po di tutto e comunque usiamo questa sofisticatissima tecnologia acchiappa fantasmi che sono degli aspirapolvere possiamo aspirare i nemici con l'aspirapolvere quindi li imbolliamo come in bubble bubble e poi rilasciando il tasto del fuoco li sbolliamo e li possiamo lanciare contro gli altri nemici per un po come le palline di le palle di neve di snow bros per ammazzare altri nemici fare punti e cose di questo genere ok io per questo gioco non ho avuto il tempo con il sogno di allenarmi ho fatto giusto un paio di partitine adesso giovedì sera e devo assolutamente registrare la la video sfida perché domani la dobbiamo caricare non ho fatto nemmeno le le schedine non ho fatto niente va bene ok andiamo a provare cominciamo dal dal primo quadro va bene questo è come si gioca con questo tasto si aspira rilasciandosi si sputa e una cosa interessante che c'è questo gioco di diverso rispetto a bubble bubble è che si può scendere dalle piattaforme premendo in basso e salto si può scendere cosa che a bubble bubble non si voleva fare inoltre l'aspirapolvere può essere anche utilizzato per aspirare i bonus ok qui ci troviamo credo in russia perché vedo sembra di vedere il cremlino e la basilica sullo sfondo attenzione questi potrebbero saltare spariamo giù non l'ho ammazzato e spariamo tutto la grafica è molto carina la giocabilità è ottima anche questo questo genere di giochi sono sempre sempre molto divertenti solo che non sono dei giochi a cui io sono molto molto bravo non siamo mai stato un un drago né a bubble bubble né a palos on stars o cose di questo genere rainbow of island mi accontento di trovare a scendere giù qua anche perché il commodore di stascia spiegato che c'è comunque una re up a un certo punto io sparo qua sotto ecco passiamo giù di qua ecco sono stato fatto ammazzare che il clown ha cominciato a correre all'impazzata che dì ah you did ah io non avevo mai capito you did cioè ce l'hai fatta poi ogni tanto ci stanno queste l'attenzione questi sputano il fuoco ci stanno questa specie di lampade sembrano le sembrano la bottiglia da cui usciva il mago pancione che sono sostanzialmente le cose da cui continuano a uscire i nemici e noi le dobbiamo distruggere per riuscire a riuscire a fine il quadro sennò i mostri continuano a uscire insomma ecco arrivato il boss è il primo boss che altro non è che un pagliaccio pagliaccesco abbastanza semplice basta stare qua a aspirare le bombe e tirargliele contro basta non colpire i palloni o le altre bombe ecco ho colpito le altre bombe quindi non ho fatto niente ecco è come un pochino anche il panger oggi giriamo il mondo ci sono varie varie location tumble pop eccoli qua i due i due a chiappa fantasmi seconda secondo quadro è l'egitto chiaramente qui ci stanno gli scheletri va bene le mummie però non ho capito perché mi stanno pure gli scheletri porca ma tosca mi si è mi si è affiondato molto poi ci ha fatto vedere il commotorista che se completiamo la parola tumble pop con le lettere prendiamo un extend no andiamo a un a un quadro bonus dove possiamo fare dei punti e prendere altri video stage clear insomma come avete visto non sono molto molto bravo in tutto il genere di giochi mi piacciono sono divertenti per esempio a me coso come si chiama sono brosse piace tantissimo però non sono proprio la pace vedete quando la mummia si arrovoglia che comincia a fare vabbè questa era l'arma speciale ma l'ho presa troppo tardi quando la mummia si arrovoglia per teletrasportarsi un po' come la specie di ninja di 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 eh attenzione che questa vuoi spara di snow bros eh non la possiamo non la possiamo colpire ma no è andata giù mi sa che mi dobbia trattarti sotto tipo qua lo tiriamo qua e li famo i secchi prendiamo questo mega diamantone che è sta roba ho preso all'inizio c'era un quadro una schermata che faceva vedere che cosa erano i vari bonus però chiaramente non ho visto oh la vacca ecco mi sono fatto ammazzare ok primo primo tentativo se mi pare che ho fatto a 69.900 fatemi mettere il nome niente continua vediamo se mi appare il punteggio che conferma eccolo la 69.900 va bene facciamo un altro tentativo parto sempre dal parto sempre dal questo è da guarda magari cerchiamo di giocare con un po' più di attenzione questa volta anche se non mi aspetto di fare molti punti in questa sfida perchè come ho detto non sono dei giochi a cui sono particolarmente a cui sono particolarmente bravi ma insomma siamo qui per divertirci ok giù 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 c'è poco tempo dopo aver ucciso l'ultimo nemico per recuperare tutte quante le cose buone che stanno sullo schermo quindi è una variazione sul tema di di bubble bubble però carino divertente vedete più più nemici imbolliamo più il nostro il nostro sparo diventa potente e può passare attraverso vari nemici se imbolliamo un nemico solo dopo il primo dopo il primo nemico si ferma se ne imbolliamo due penso che ne possa travolgere anche due e così via si attenzione eh cazzarola ma l'avevo evitata però vaffanculo è stato molto scortese mi sa che anche la fiamma l'esplosione della fiamma ci da fastidio non solo lo sprite della fiamma in sé ma anche quando tocca il muro ed esplode comunque anche quello ci uccide come vedete li possiamo anche aspirare i nemici attraverso il muro quindi non è proprio necessario necessario andargli incontro sicuramente ci sono tantissimi trucchetti per fare punti strategie segreti da scoprire però ma contento di cercare di riuscire ad arrivare il più avanti possibile ok iudi iudi iud! credo ce l'hai fatta iiudo 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 ancora l'egitto cerchiamo che non farci fuori ecco appunto appena vado le mummie che il sedere trasportano sono strozze prendiamo questo gare la plastica ci vuole da più veloci a vederlo non sembra difficile ma è molto facile morire soprattutto secondo me dovrebbe essere buona norma quella da ammazzare in fretta i nemici quelli stronzi tipo i mangiatori di fuoco oppure le mummie perché sono quelli che ci possono dare più facile ovvia Già ho finito le vite qui ci stanno mangiatori di fuoco e anche le mummie quindi double trouble eh mazza vaffa a culo ecco che ho fatto una stronzata 61.200 quindi ho fatto peggio del primo tentativo niente proviamo a riscattarci con il terzo e ultimo io sul mio rom set di final bar neo ho eliminato tutti quanti i cloni e cose di questo genere ho solo le 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 versioni quelle originali quindi anche in questo caso sto giocando con la versione insomma parent di tumble pop spero che vada bene non so se c'è qualche differenza rispetto ai bootleg però insomma ok ok qui ho preso bov che credo che mi estenda la gittata del getto ok come dicevo sembra facile ma in realtà è facile morire ok facciamo attenzione agli sputatori di fuoco ecco qua ok andiamo a prendere tutta questa roba ecco adesso ci ciucciamo questa specie di coso questo slime altra volta il boss e spariamo contro le bomba ecco non ne ho fatto niente quando lo colpiamo sentiamo che fa questo versaggio tipo niente ecco niente bisogna aspettare che se ne vadano le bombe dall'altra avanti ecco però possiamo uccidere tranquillamente non so quanto ci stanno le vite bonus se ci stanno penso a 100.000 allora rinunciamo un'altra volta sto cavolo di deserto egiziano cerchiamo di fare attenzione alle mumme vaffanculo ecco fatto naturalmente con un po' di pratica si può diventare anche abbastanza bravi però c'è sempre un po' di tempo che manca che non si riesce mai a far quadrare le varie cose è questo che è fuoco allora tra l'altro anche se non li aspiriamo fino in fondo anche se lo dai una sventagliata con eh non ci arriva col getto dell'aspiratore li stordisce e in alcuni casi potrebbe essere utile quando stanno questi nemici che rompono le palle tipo o sputa fuoco attenzione ecco magari conviene anche dargli semplicemente una una ciancicata giusto per bloccarlo vai ok ok non sono riuscito a fare un po' di più 75.800 ok attenzione attenzione alle piamme vaffanculo ok voglio dire contro mh quelle scese andiamo qua sotto no ok qui per passare oltre possiamo sfruttare la nuvoletta per andare ecco appunto che non ci tocchi vaffanculo 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 allora andiamo sotto e mezzo che questi ci ammazzano ok ecco ecco ah siamo arrivati al secondo boss che è il mago accendere la lampada attenzione ci appaiono le mugne addosso questo spara pure quindi noi penso che dobbiamo evitare il suo fuoco evitare le mugne e tiragliele contro sostanzialmente vaffanculo ok dobbiamo solo fare attenzione alle mummie che si deve trasportare no ecco 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 finire agosto ecco 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 non prende un'altra zh� ok è morto e abbiamo ucciso anche il secondo boss world player ok Tumblepop Ok Terzo punto che è la braccia Sullo sfondo c'è l'arco dei trionfo Porco Giuda no Mi ha toccato e mi ha ucciso Va bene ok 92.000 punti Va bene ok Direi che Vale Ok Per questo video La finiamo qui Perché ho fatto tutti e tre i tentativi Il gioco è molto carino Molto divertente Un filino Sì 92.000 punti Un filino difficile però insomma Per essere un gioco arcade Diciamo che non guasta Perché poi insomma era questa là Lo spirito di questi giochi Insomma essere macchinette per mangiare i soldi Quindi da questo punto di vista È un gioco perfetto Perfetto per le sfide Divertente Controlli eccellenti Ottima grafica Avevo letto da qualche parte Nelle eccezioni che c'erano anche Dei riferimenti a A Chelnov Da qualche parte Ma io Non li ho visti Se voi Se voi li vedete Fatemi Fatemi sapere Metteteli Metteteli in evidenza Perché sarebbe interessante Vedere i riferimenti A questo gioco Abbastanza Almeno per me oscuro Ma Molto bello che ci ha fatto scoprire Il Mr. Mega Drive Nella Nella sfida precedente Ok Quindi dicevo La mia video sfida Finisce qui Come al solito Partecivate numerosi Fateci vedere Cosa Di cosa siete Cosa siete capaci di fare E Soprattutto Non mancate di Seguire il processo Di Mr. Mega Drive È stato molto divertente Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao